E-M-I-G-R-A-T-I-S, Pio e Amedeo salutano Canale 5. Nel 2023 torna Felicissima Sera minore IMG Classo uguale Alin Center WP Image-4353SRC uguale HTTPS2.i0 uwp.com-tristemondo.it-wp-content-uploads-2022-10-pioamideomicetison Ilunga PEG, Resize uguale 662%2C366-38, SSL uguale 1 Alto uguale WIT uguale 662 EIT uguale 366 data recalc dims uguale 1, maggiore mercoledì 19 ottobre, in prima serata su Canale 5, ultimo appuntamento con, emigratis la resa dei conti, e Pio e Amedeo. Nella quarta puntata, Bufalone, e, Messicano, interpretati dal duo comico Foggiano da Los Angeles si sposteranno a Las Vegas dove incontreranno la leggenda mondiale della box, Mike Tyson. Oltre la campione, saranno ospiti dell'irriverente coppia, Elisabetta Canalis, Marvin Vettori, l'ex calciatore brasiliano Adriana e il pilota di Formula 1 Felipe Massa. Io e Amedeo salutano così Canale 5. La premier di Emigratis ha conquistato 2.547.000 telespettatori con il 16,9% di Cher, la seconda 2.163.000 con il 14,7% e la terza 2.019.000 con il 14,4%. Nei giovani lo Cher ha sfiorato il 40%. Per gli affezionati del duo comico, capace di catalizzare uno dei